dicevo a onor del vero perché a me viene sempre da dire condividere pubblicare il tutto i risvolti sono stati ovviamente i seguenti c'è stato insomma questo chiarimento e abbiamo visioni completamente diverse ma questo già lo sapevamo abbiamo parlato di un miliardo e mezzo di cose l'unica cosa certa è che ad oggi abbiamo preso due strade completamente diverse e per un quieto vivere generale continuiamo per due strade completamente diverse però ormai quel che è stato è stato diciamo che i punti di vista appunto sono diversi opposti opinabili da entrambi le parti va bene così adesso si canta